È un gennaio di infortuni e di incidenti per le star WWE, ora esce la notizia, la riferisce PW Insider, che anche Carmella ha qualche problema e che sta lottando stringendo i denti. Anche per questo, aggiungono di recente, nei match a squadre in cui è stata coinvolta insieme all'altra campionessa femminile della WWE Zelina Vega, ecco in quelle sfide è stata quasi sempre Queen Zelina a fare il massimo, a fare la maggior parte del lavoro nel ring, lasciando a Carmella soltanto qualche piccolo sprazzo. Tra l'altro mi aggiungono che Carmella non ha preso parte nemmeno ai live event svoltisi dopo Natale, quindi quelli delle vacanze. Pare anche che questo atteggiamento di non voler mollare, di essere presente, abbia e stia ricevendo parecchi consensi nel backstage, visto che ha delle restrizioni fisiche, però insomma si sta curando mentre continua ad esserci. La natura dell'infortunio is unknown, quindi non è al momento nota. Visto che lei è comunque attiva, ragionevolmente si può pensare che non sia nulla di particolarmente grave, o almeno me lo auguro. Beh insomma stanno sicuramente peggio a SmackDown, con Drew McIntyre che ha problemi al collo, Roman Reigns che ha il Covid, il Covid che è scoppiato anche in casa di Kevin Owens, con la moglie che ce l'ha e il figlio che mostra i sintomi. Lui per ora pare che stia tranquillo, però insomma c'è Sasha Banks che ha problemi ad una gamba. Ecco, Raw non sorride però nemmeno piange, mettiamola così.